ciao a tutti sono daniele siamo a zurica italiana e volevo vedere con voi brevemente un articolo un articolo che parla che ho scritto che parla di come ottenere la cittadinanza svizzera quali sono i requisiti praticamente probabilmente in parte già li conoscete ma per chi non li conoscesse questi sono in breve i requisiti per per ottenere la cittadinanza e in qualunque paese ci sono sempre dei processi degli anni da passare nel paese ci sono sempre delle condizioni da mantenere ci sono sempre processi differenti a seconda delle condizioni differenti per esempio se si sposa uno svizzero una svizzera o se si è nati qui e cresciuti qui le condizioni varieranno un pochino io vi parlo adesso il processo standard dando un pochino accenna le varie differenze con i cantoni bisogna aver vissuto dieci anni in svizzera questo è più o meno intanto il primo grande ostacolo dieci anni in svizzera e avere ottenuto e in questi dieci anni avere avuto il permesso diciamo che noi italiani abbiamo senza problemi permesso non n l perché sono permessi che non danno accesso alla cittadinanza e neanche il permesso di soggiorno f che credo valga ma vale solo per la metà quindi vale contrebbe servirebbero il doppio degli anni se avete quel permesso ma per gli italiani comunque non c'è problema perché si arriva in genere con permesso b e si passa dopo cinque anni un permesso c che è un permesso più appunto più valido per queste per queste cose bisogna aver vissuto dieci anni in svizzera è vero ma poi ogni cantone ha anche le sue condizioni in particolare per quanto riguarda la durata di permanenza il cantone di zurigo per esempio richiede che gli ultimi due anni siano stati vissuti proprio dentro il cantone di zurigo altri cantoni sono più restrittivi del tipo il cantone a penzelle inner orden richiede che si gli ultimi anni ultimi due anni siano vissuti lì nel cantone ma inoltre dei dieci anni comunque cinque totali devono essere stati vissuti dentro il cantone a penzelle e comunque ogni cantone ha le sue rigolette che possono le sue condizioni che possono essere aggiunte quindi prima di iniziare il processo quando si è raggiunti questi dieci anni bisogna informarsi anche possibilmente anche prima per non scoprirgli di sorpresa bisogna informarsi col cantone dove si risiede quali sono le condizioni aggiuntive di quel cantone per il processo per ottenere poi la cittadinanza bisogna inoltre sapere ovviamente la lingua del posto e la lingua del posto in svizzera che vuol dire non tutte e quattro le lingue ma sapere la lingua della regione dove si dove si risiede per esempio in zurigo bisogna avere la conoscenza del tedesco e la conoscenza del tedesco significa un livello standard ci sono dei livelli che vengono con una lettera un numero vengono codificati diciamo un livello a1 se non sbaglio di scritto e b2 invece di orale parlato e di lettura di comprensione anche scritta però di scrittura basta un livello a1 quindi un livello in realtà non eccessivo ma bisogna sapere un po di tedesco il che giusto mi sembra giusto no vivendo a zurigo inoltre dipende ovviamente da quale cantone richiedere se siete in ticino questo non sarà richiesto sarà richiesto una conoscenza dell'italiano poi sì ci sarà una conversazione faccia a faccia in cui verrà testata anche non solo la conoscenza della storia della geografia ma anche delle della costituzione quindi un pochino anche dei diritti e dei doveri di chi vive in svizzera per sapere quanto sappiamo del posto di cui vogliamo della cui società vogliamo far parte e inoltre come terzo grande requisito c'è la necessità di essere integrati nella società vuoi essere cittadino svizzero sei parte di questa società come sei parte di questa società qual è la tua integrazione e ovviamente non è che bisogna per forza essere appunto fa parte di una zufta zurigo ma per esempio se si è parte cito nell'articolo per esempio se si è parte della dell'organizzazione della squadra di hockey della 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 scuola è qualcosa che citerei per esempio se si è invece si organizzano degli incontri di quartiere anche è una cosa che fa parte della vita sociale cioè bisogna informare chi ci viene a valutare perché c'è una valutazione che ci viene a valutare quanto siamo integrati nella vita sociale e quindi questo è in breve in realtà vedete che non ci vuole molto a descrivere i requisiti poi sotto metto un articolo al metto un link all'articolo quindi se vi volete andare a leggere anche le fonti che sono qui in fondo all'articolo eccetera ci sono tutti ovviamente i dettagli ma c'è da anche da considerare che c'è un costo poi il costo è nel corso dei due anni che può richiedere il processo fino a due anni si possono pagare a seconda del cantone secondo le condizioni però si possono pagare fino a 2500 franchi per ottenere poi la cittadinanza quindi non è neanche un processo diciamo gratuito ci sono delle spese da coprire e alla fine siete cittadini svizzeri e la domanda seguente è ma perché essere cittadino svizzera magari le rispondiamo in un'altra puntata di questo bel blog alla prossima